La vita è un viaggio imprevedibile. Ad ogni svolta della strada sono stata invasa dal rumore di migliaia di domande e dal silenzio di nessuna risposta. Lo so bene che cosa vuol dire sentirsi spaesati, completamente persi in noi stessi, in balia di paure ed angosce, in balia di quei venti contrari che ci portano a credere di non essere abbastanza, di non valere, di abbandonare la strada maestra perché è complessa, per imboccarne una più asfaltata, più diritta, più semplicemente percorribile. Ma la vita è così, è una gran bastarda e lo dico con seno di causa. Ma non possiamo, e lo dico a me tanto quanto a voi, non possiamo piegarci suoi voleri con inerzia, ma dobbiamo continuare a lottare, a combattere, ad andare avanti, nonostante gli ostacoli, nonostante le cadute. Io sono Ilaria Parlanti, una scrittrice e sceneggiatrice toscana, come sentirete sicuramente dal mio accento, ma anche attrice ed attivista e sono qui per condurvi per mano nel viaggio più incredibile che potete fare, quello di rinascere dalle proprie ceneri, come Fenici Novelle. Era il 2020, il nostro mondo stava impazzendo, cadendo in brandelli ai piedi di una pandemia. Le porte dei locali, degli uffici, delle nostre case venivano tutte chiusi con suoni sordi ed io, come penso anche molti di voi, mi ritrovavo immersa nelle quattro pareti di camera mia e pensavo, è lì che è cominciata la mia introspezione, quando la voce che sentivo nella testa, quella voce che poi è diventata la coscienza di me stessa, quella voce fuori campo del film della mia vita interiore, ebbene quella voce mi diceva di lasciare la presa, di abbandonare l'ascia di guerra contro me stessa, ma anche che mi odiavo e odiavo il mio corpo e lo avrei sempre fatto fino alla notte dei tempi. Non mi accettavo, anzi, provavo proprio disgusto per la persona che ero diventata, sempre timida, sempre succube degli eventi del mondo, sempre con qualcosa da dire sulla punta della lingua, ma mai con vero coraggio per proferirlo ad alta voce. Ebbene, io mi odiavo per la storia che ho alle spalle, e odiavo le cicatrici lunghe tutta una schiena, posso dire lunghe tutta una vita, mi odiavo soprattutto per quell'etichetta, quella del disabile, che mi ha accompagnato per tutta la vita, e che, in qualche modo, mai mi affrancherò di far parte di una minoranza che porta terrore e pietismo in chi non è toccato. Ebbene, sì, io ho una storia da raccontare e oggi la voglio raccontare proprio a voi. Sono nata 25 anni fa con la sindrome di Jarko-Levain, una malattia recessiva assai rara che comporta la malformazione delle ossa della gabbia toracica, della colonna vertebrale e degli organi interni, come cuore e polmoni. La prognosi data il giorno della mia nascita ai miei genitori è stata a morte certa per elisione e soffocamento dei polmoni e dell'esofago. Allora i miei genitori mi accompagnarono a casa per lasciarmi morire, ma ciò non accadde nei tre giorni successivi al mio rientro, come prospettato dai medici, e nemmeno dopo sei mesi. Allora i miei genitori iniziarono a peregrinare per tutti gli ospedali d'Italia e tutti arrivavano alla medesima conclusione. Il mio caso non era compatibile con la vita. Soltanto all'estero, a Parigi per la precisione, un chirurgo sentì della mia problematica e si decise a farsi avanti, proponendo un percorso sperimentale e chirurgico nella capitale francese. Il suo è stato il tentativo che mi ha salvato la vita. Dopo 24 operazioni alla colonna vertebrale, protesi in acciaio e lunghe tutta una schiena, un infinito numero di corsetti gessati e di plastica, io sono viva. Certo, la qualità della vita non è eccelsa, soffro di dolore cronico, un cuore tachicardico, una lesione midollare alla gamba destra, ho una severa compromissione della capacità vitale respiratoria, ma sono qui e lo posso raccontare. È stato proprio qualche giorno dopo la chiusura dell'otto, quella che conosciamo bene, la chiusura dell'otto marzo 2020, che il dolore cronico mi ha allettato completamente per sette mesi. Sette lunghi mesi trascorsi prigioniera nel mio letto, incapace di alzarmi anche per andare in bagno o per i pasti. Inutile dirvi che è stato un inferno terreno, dove i miei pensieri hanno cominciato a spiraleggiare come metastasi infestanti ed uno ricorreva immancabilmente. La mia vita è rovinata. La spirale ha continuato invadendomi la mente, gettandomi in ansia generalizzata, attacchi di panico, disturbo post-traumatico da stress, depressione reattiva, ma ne sono uscita fuori, lo devo dire, non mi vergogno a dirlo, con la psicoterapia e gli psicofarmaci, che tutt'oggi assumo regolarmente. Ma come ho fatto davvero ad uscirne? In due modi. Primo, ho cercato un chirurgo che si decidesse a rischiare il tutto per tutto e a riportarmi in sala operatoria, estirpandomi la causa fisica del dolore cronico. E due, scrivendo. Scrivere è la mia passione, ma chiamarlo passione sarebbe reduttivo. Scrivere è la mia ragione di vita ed ha fatto parte della mia terapia. In quei mesi di farmaci ottenebranti, di lacrime e di dolore, io ho scritto il mio primo romanzo ed ho ripercorsi in chiave romanzata tutta la mia storia, dalle origini ai sentimenti più vicini che ho incontrato nel tempo. Mi sono condotta per mano nelle intemperie di una malattia di cui io soltanto oggi conosco il nome, che mi ha distrutto, è vero, l'infanzia e l'adolescenza, ma mi ha dato anche molto di cui dialogare. La forza della vita è il dono della pazienza. Io penso che nel mondo labile e fugace di oggi le cose belle, quelle che ci portano veramente gioia, abbiano bisogno di tempo per svilupparsi, come piante annaffiate con cura. Ed il mio tempo oggi è arrivato. Faccio il mio coming out qui su questo palco insieme a voi ed inizio ad urlare al mondo io sono viva, sono qui, ora, e sì, sono disabile. È stato grazie alla scrittura se ho abbandonato l'odio per abbracciare l'amore, quella forma più pura che molte volte diamo per scontata, ma è che è necessità per una vita felice, l'amor proprio, l'accettazione delle proprie fragilità e delle proprie debolezze. I miei talloni di Achille sono diventati i miei punti di forza, le lacrime le ho trasformate in sorrisi e anche le cicatrici sono divenute non segni di un corpo deforme, ma testimonianze di una tenacia straordinaria. Ho combattuto tutti i giorni contro quella parte che di me si vergognava, si vergognava della mia storia, ma non l'ho lasciata vincere. Alla fine tutto quel soffrire mi ha portato ad una consapevolezza che non riuscivo nemmeno ad esprimere a parole all'inizio, ma che sicuramente ho inserito nel romanzo. Ovviamente la mia protagonista ci arriva a 40 anni, io fortunatamente ci sono arrivata a 25, ma non c'è un'età giusta per cambiare. La vita è fatta di bivi e di decisioni e sta solo a noi condurre i giochi. Certo, a volte c'è lo zampino del caso, ma quello che conta davvero è il modo in cui reagiamo agli eventi. E voi mi potreste dire e se non ce la facessi? Se mi dimostrassi un fallimento perché non riesco a cambiare prospettiva? Io vi direi, nessuno è un fallimento. Nessuno, finché si ha la forza di tentare, lo può essere. Le cadute fanno parte del percorso, non importa quante volte si cade, ma quante riusciamo ad alzarci. Io ho preso la mia decisione un anno fa, non mi sarei più nascosta dal giudizio degli altri. Mi sono guardata allo specchio e ho deciso che sarei cambiata. Alla fine l'ho trovato il chirurgo che mi ha riportato in sala operatoria. Ci sono entrata con una paura viscerale e ne sono uscita senza più quel dolore lancinante. Poi c'è stata tanta fisioterapia per reimparare a camminare in modo adeguato, ma adesso ci siete voi, c'è il TEDx, ci siete voi che mi ascoltate, c'è questo mondo. Allora vi chiedo però di non prendermi come un esempio infallibile da seguire, perché comunque sono umana e sono soggetta all'errore. Ma due consigli ve li voglio lasciare. Siate sempre voi stessi ed inseguite i vostri pazzi sogni, perché la vita è fatta per i sognatori ribelli. Siate diversi ogni giorno della vostra vita affinché il cambiamento sia reale e possa essere attuato. Mi raccomando, ricordatevi di essere anormali, che nell'omologazione ci stanno bene gli altri. Insomma, la scienza ci dice che il DNA umano è fatto diverso per ogni singola persona, quindi non esiste una uguale all'altra come si suole pensare. Siate diversi, non abbiate paura. E se siete un po' perfezionisti, come lo sono io, colma di timidezze e di paure, vi dico una frase che affermava il fisico Stephen Hawking. L'universo non ammette perfezione. Pensate, ma non troppo. Siate intrepidi, ma anche razionali. perdonatevi delle colpe che portate come proprie, ma che magari non sono nemmeno di vostro pugno. Amatevi. Io vi ho detto all'inizio che la vita è un viaggio imprevedibile. E allora, in questo viaggio imprevedibile che chiamiamo vita, ricordatevi di essere felici. Grazie. Grazie.